Che cosa ci ha insegnato e che cosa ci sta insegnando, soprattutto a chi vive lontano dai campanili che porta dentro se stesso, nella propria esistenza, questa emergenza e questo contagio? Siamo, come tu sai e come hai detto, io sono al centro della zona rossa e quindi vivo questa cattività particolare con un grande senso di responsabilità. Il titolo di questo mio piccolo diario che faccio rivolgendomi in particolare alla comunità di Grotta Minarda perché ho voluto aprire questo spazio ad una sensibilità diversa di vivere questo periodo di cattività, questo periodo di obbligo civile di stare in casa perché poi noi siamo sostanzialmente sempre degli animali politici per cui anche in cattività in questo momento non ci basta soltanto il riequilibrio personale, il trovare il rapporto equilibrato con se stesso, anche con i nostri difetti, le nostre nevrosi eccetera. Noi sappiamo che siamo degli uomini destinati ad operare all'interno della società in cui viviamo, sia qui a Desenzano sia per i grottesi che vivono a Grotta Minarda. Per cui uno spazio però che non fosse più soltanto l'esercizio delle piccole polemiche o dei rancori di quello che comunemente avviene nelle piccole comunità dove si vive più che altro di questa critica inutile. Per cui anche lì preparare in questo spazio, attraverso anche questa esperienza della paesologia, preparare il dopo coronavirus.